Ciao a tutti, buon anno e benvenuti di nuovo sul canale. Se siete nuovi qua, benvenuti per la prima volta. Allora, buongiorno, è così strano ritornare nella mia stanza e filmare, dopo praticamente quasi un mese che non ho filmato qua. Allora, ok, spero che avete passato delle belle feste, che avete passato bellissimo inizio d'anno. Io no comment, facciamo prima così. E niente, oggi voglio ritornare sul canale parlando della vostra cosa preferita, ovvero il Zero Waste. È strano che non vi siate ancora rotte i coglioni, ve lo dico io. Allora, prima di tutto voglio dirvi sì, buon anno, spero che avete passato delle bellissime feste, spero che avete ricevuto tanti regali sostenibili. Spero che avete fatto regali sostenibili anche voi, perché insomma vi ho dato delle ideucce. Se per caso avete utilizzato le mie idee, quello del video sui regali sostenibili, fatemelo sapere che mi fa sempre piacere. Allora, oggi torno nella mia cameretta per filmare un altro video, che però comunque riguarda la Nuova Zelanda. Perché ho deciso di fare questo video? Come avete visto dal titolo, questo sarà un video su come è andato il mio Zero Waste in Nuova Zelanda. E parlare anche un po' delle cose generiche, se per caso vi interessa andare e viaggiare là. Perché un ragazzo mi ha chiesto effettivamente di parlare un po' dei prezzi, delle cose. Io posso anche fare un video a parte su come ho organizzato tutto il mio viaggio, se vi interessa. Non ho assolutamente problemi, vi serve un botto di tempo, però posso parlare anche di quello. Però questo si concentrerà principalmente sul Zero Waste per una sola ragione, ovvero che sono abituata comunque a fare video sempre sul Zero Waste, dove siamo nella nostra comfort zone, nella nostra casa, dove abbiamo tutti gli strumenti, diciamo, per evitare lo spreco. Invece quando sei in vacanza, secondo me si rischia un po' di scivolare un pochino. Allora, ovviamente non farò... cioè, farò una parentesi... no, non farò. Farò una parentesi sul fatto che sì, sono andata in Nuova Zelanda, sì, ho preso un aereo, sì, in Nuova Zelanda ho utilizzato delle macchine per spostarmi perché non hai altra scelta. Quindi giustamente non posso considerare che questo viaggio sia stato Zero Waste solo perché non ho mangiato carne, ho bevuto l'acqua dalla mia bottiglia. Semplicemente sappiamo tutti cosa significhi viaggiare, prendere l'aereo, sappiamo anche i danni che diciamo provoca l'aereo, però allo stesso tempo... non voglio giustificarmi, però allo stesso tempo erano 18 mesi che io non prendevo l'aereo, 18 mesi che non avevo delle ferie. E questa vacanza oltretutto è stata pianificata prima ancora che io entrasti nel mondo Zero Waste, però anche se fosse stata nel mondo Zero Waste, perché qualcuno mi ha posto la domanda, avrei fatto comunque questo viaggio perché ci tengo a dire che il Zero Waste non significa che dobbiate smettere di vivere. Parliamoci chiaro. Una cosa è dire vado a fare una vacanza una volta all'anno, prendo l'aereo una volta all'anno, un'altra cosa è dire mi faccio un weekend alla settimana dove vado da qualche parte e prendo 50 aeree nella mia vita. Sono due stili completamente diversi e due anche diciamo approcci diversi a questa cosa. Ecco, cioè è una macchina che deve entrare. Quindi sì, il mio consiglio è di sì, cercate di sprecare meno nella vita, cercate di essere coscienti delle vostre scelte, cercate di fare tutto ciò che è in vostro potere, ma non vi dirò mai smettetela di usare la macchina o smettetela di usare l'aereo o smettetela di fare quest'altro e quest'altro, perché comunque c'è gente che vive all'estero e che comunque deve prendere un aereo per vedere la propria famiglia, ci sono città dove senza macchina non fai niente, ci sono svariate cose da prendere in considerazione prima di dare certi consigli e su certe cose come il viaggiare, i mezzi di trasporto e altre cose non me la sento di dire, non mi sento di fare l'ipocrita dicendo sì, gli aerei danneggiano, sì lo so, però allo stesso tempo non è che io prendo l'aereo per andare a lavoro tutti i giorni, ok? Questa era una piccola parentesi prima che qualcuno arrivi a fare commenti poco carini. Sì, ho preso un aereo, ci ho fatto 20 ore di volo e in Nuova Zelanda abbiamo sempre avuto la macchina per spostarci da un posto all'altro perché sì, purtroppo senza di quello non puoi fare niente. Quindi dopo questa lunghissima introduzione passiamo a come è andato il Zero Waste in Nuova Zelanda. Allora, la primissima cosa, io avevo fatto delle foto dove ho fatto vedere quello che avrei portato con me. Quindi mi sono portata dietro tutte le mie cose, cioè tipo la bottiglia, mi sono portata la tazza da caffè, mi sono portata sciampi, balsami, tutte queste robe di cui avevo bisogno che giustamente hanno occupato pochissimo spazio. La mia valigia e anche quella di lui pesava 10 kg. E credetemi che è una grossissima differenza tra la valigia che ho fatto adesso per la Nuova Zelanda e la valigia che avevo fatto tipo l'anno scorso per andare in Grecia, per esempio, perché ha aiutato tantissimo il fatto di avere tante cose solide e meno prodotti, perché io adesso comunque uso tanti meno prodotti rispetto a quello che usavo l'anno scorso, per esempio. Sono passata a tantissime cose solidi e quindi il solido giustamente, oltre a pesare meno, occupa anche meno spazio. Quindi quando sono tornata dalla Nuova Zelanda, visto che ho comunque comprato delle cose in Nuova Zelanda, ho avuto spazio. Emma poi... scusate. Quindi, questa cosa ha aiutato tantissimo. La bottiglia, come vi ho già detto, mi ero comprata una bottiglia per il mio compleanno e era stato un autoregallo, ho portato questa bottiglia tipo da 800 ml, mi sa, che manteneva il freddo benissimo, molto di più rispetto ad altre bottiglie che avevo, che ho comunque, non le ho buttate via, e oltretutto è stata comoda perché era grande, quindi giustamente non sempre avevamo l'occasione di riempire la bottiglia, nel senso che se andavamo a fare tipo... se andavamo in mezzo ai boschi, ti tenevi quella, ecco. Quindi, diciamo che quella è stata una cosa da non dimenticare. Mai state tranquilli, all'aeroporto non me la buttavo via solo perché è di metallo, basta che non sia piena. Poi mi ero portata dietro comunque le cannucce, gli ustensili, tutti i miei ustensili sono non in bambù, sono fatti in mais, ecco. Sono fatti in mais, quindi non mi hanno fermato, non mi hanno fatto problemi. Le mie cannucce sono in vetro però, quindi avevo paura che mi fermassero per quello, ma in realtà alla fine non mi hanno fermata. E poi ho portato anche tutte le mie box, quelle che uso per i recipienti, per il cibo. Cosa è successo? Ho usato tutte queste cose, mi sono state utili. Onestamente sono stati inutili e vi spiego anche il perché. E vi spiego. Allora, la bottiglia d'acqua è assolutamente indispensabile, quella pazzesca, senza di quella non sarei sopravvissuta. Allo stesso tempo vi dico anche che io quando sono in vacanza faccio turismo evito di bere troppo perché mi scappavo subito. Quindi volevo evitare di bere troppo e non avere un bagno a disposizione. Come vi ho già detto eravamo sempre quasi in mezzo alla natura, quindi giustamente è anche un po' più impossibile trovare un bagno. E quindi quella della bottiglia è stata sicuramente la cosa più indispensabile che ho utilizzato durante questo viaggio. E ho utilizzato la tazzina da caffè una volta. È stata inutile, assolutamente sì. Uno perché ho portato le due tazzine di vetro, quindi pesano in ogni caso, quindi erano sempre là in valigia a occupare spazio. E non le ho mai usate. Perché? Semplice. In Nova Zelanda io sono stata sorpresa su quante pochissimi fast food esistono. Prima cosa. In qualsiasi città, pochissimi fast food. Ci sono comunque normali ristoranti, normali baretti, da caffè, eccetera, eccetera. Però le grandi catene che sappiamo esistono, tipo Starbucks, Starbucks l'ho visto tipo forse nella capitale. Le altre città, vabbè che noi abbiamo girato tanto in mezzo alla natura, però comunque siamo state anche in due città grandi. E io Starbucks l'ho visto veramente poco. Poi in McDonald's ne avrò visto uno in una città e in altre città proprio non c'era proprio. Quindi fast food non sono una cosa che va tantissimo. Io ero tipo, ero innamorata di questa cosa perché era bellissimo non vedere le cacchio di catene fast food che io detesto con tutto il mio cuore. Quindi per la tazzina da caffè, per esempio, c'erano questi mini baretti dove tu andavi a prenderti il tuo caffè. Un po' come i baretti italiani. Tu vai, prendi il caffettino, ti siedi, sta zitto e stai là a far colazione. Mi dava l'impressione di essere un popolo più chill rispetto ai canadesi che non ci fanno, non ci fanno a starse seduti e prendere un caffè. Quindi diciamo che le tazze sono risultati un po' inutili a una certa perché ci fermavamo sempre, prendevamo il caffè seduti, con calma avevamo tutto il tempo del mondo, eravamo in vacanza. Pochissima gente, oltretutto c'era pochissima gente che prendeva il caffè da portare via e se lo prendevano da portare via, ho sempre visto un sacco di gente con la tazza uguale alla mia. Questa tazza la vendevano quasi ovunque, la vendevano quasi in tutti i baretti o comunque in posti più grandi, perché comunque ci siamo fermate anche in posti in mezzo al nulla dove c'era tipo magari solo quel baretto e quindi lì magari non avevano questa cosa. Però a prescindere, c'era tantissima gente con la tazza riutilizzabile, onestamente ero in estasi. E poi tantissimi posti avevano anche il programma della tazza riutilizzabile che hanno anche qua in Canada che è una cosa della quale non ho parlato, però ve la riassumo facilmente. Ci sono dei posti in cui tu puoi prendere una... tu vai nel baretto, dici voglio un caffè e prendi questa tazza tu lasci un deposito di 5 dollari, una cosa simile, e quando tu riporti la tazza ti ridanno questi 5 dollari indietro. Se tu decidi di tenerti la tazza, questo deposito... cioè questo deposito... come si dice? Deposito? Sì, è un deposito? Ok, vabbè, corriggetemi per favore. Questo deposito non ce l'hai indietro se tu decidi di tenerti la tazza. La stessa cosa facevano anche in Nuova Zelanda. Davi tipo 3 dollari e riportavi la tazza e loro ti ridanno questi soldi. Se no, dicevi direttamente guarda la tazza me la tengo e pagavi 3 dollari che non sono nulla per una tazza riutilizzabile. Oltretutto erano pure meglio perché in Nuova Zelanda vendevano le tazze in metallo, che quindi significa che il calore si mantiene meglio rispetto a queste di plastica che hanno qua in Canada. Ma comunque è un'idea buona per la gente che decide di volere una tazza riutilizzabile, non pagarla troppo, averla sul momento, la comodità, diciamo, perché a volte le persone sono pure pigre, quindi la comodità di trovarla nel posto dove tu vai a prenderti il caffè è veramente comodo. Non so parlare, bene. Quindi, da questo punto di vista le cose sono state inutili perché principalmente non ce n'era bisogno, non ce n'era bisogno che io mi fermassi a prendere il caffè e poi riportarlo. Ogni tanto capitava che magari dovevamo guidare tanto, quindi giustamente dice, vabbè, mi prendo piuttosto il caffè al mattino, me lo prendo bene, poi vi stiamo a guidare e amen, non serve per forza avere sempre il caffè dietro. Cosa che diciamo che qua in Canada ogni tanto io la tazza comunque la uso quasi sempre perché al lavoro, dopo pranzo, vado a prendermi il caffè al baretto perché la macchina caffè che abbiamo al lavoro è orribile. Quindi questo è principalmente l'uso che faccio, oppure al mattino se non ho tempo per la colazione mi fermo al baretto e mi prendo il caffè. Però giustamente quando sei in vacanza c'hai un altro mood, hai più tempo, non è che dici oddio c'ho i minuti contati, quindi però a prescindere ho trovato che in Nova Zelanda la gente fosse meno sprecona da questo punto di vista, poi in generale la raccolta differenziata. Bellissimo, bellissimo. Qua in Canada, come vi ho già detto, c'è l'umido, c'è il compost, la spazzatura dove c'è tutta l'indifferenziata, poi c'è le cose da riciclare che però vanno tutte insieme, cartone, vetro, plastica, sono tutte nello stesso posto, poi loro dicono che le separano dove le separano. Vabbè, io voglio dare il beneficio del due, però vabbè, in Nova Zelanda invece c'era come in Italia, almeno a Venezia era così, è così, ovvero che c'avevi carta, plastica, vetro, indifferenziata e robe l'umido. Dappertutto, anche nei centri commerciali, io ero in estasi, vi giuro, pure dal benzinaio c'era questa cosa, dal benzinaio, va bene? Io niente, io ero innamorata, io avevo gli occhi a cuoricino. Seconda cosa, seconda cosa, questa lista è iniziata a 10 minuti fa, ma dettaglio, un'altra cosa è che comunque i canadesi dicono di essere tanto amanti della natura, ma credetemi che un popolo come la Nova Zelanda, che ama la natura, non esiste. Le città erano pulitissime, non c'era una cartina per terra, non c'era un pezzo di bottiglia per terra, vi giuro, anche nelle città grandi, le strade erano pulite, perché forse la gente è più educata, quindi la loro cacchio di spazzatura, la buttano nei cestini, o se la portano dietro, non mi giuro per strada. Perché anche qua in Canada, nonostante loro puliscano le strade, il Canada è un paese molto pulito, comunque la tazza usa e getta per strada in mezzo alla neve, la trovi sempre. Cosa che in Nova Zelanda non c'era niente per te, vi giuro, io credo di aver raccolto una cosa in 16 giorni che sono stata in Nova Zelanda, una, una, ed era tipo una bottiglia di plastica. Basta. Quindi questa cosa, niente, niente, io ero innamorata, io mi sono innamorata e voglio trasferirmi la, ho deciso. Quindi, sì, per quanto riguarda il cibo, la stessa cosa, diciamo, che ho utilizzato ogni tanto i miei contenitori per il cibo quando andavamo al supermercato per prendere, tipo, magari delle cose già pronte. Giustamente noi siamo stati in hotel, in qualche bed and breakfast, in alcuni posti avevamo la cucina, però sapete, quando sei in vacanza, tu ti svegli al mattino, mangi la tua colazione, poi parti tutta la giornata, perché non è che stai in appartamento, non sono andata a Nova Zelanda per stare in appartamento. Quindi non poteva, non avevamo sempre la possibilità di cucinare, quindi quello che facevamo è che se eravamo fuori, ci fermavamo in qualche ristorantino, robe così, la sera ogni tanto, se tornavamo presto, compravamo delle cose magari già usate, già preparate, e le riscaldavamo, robe simili. Quindi quando dovevamo a comprare quelle cose, magari mi portavo i miei contenitori, non mi hanno fatto problemi da questo punto di vista, per pranzo, se ci fermavamo in qualche ristorantino, comunque avevo sempre scelta, tranne qualche volta, mi è capitato che eravamo in mezzo a nulla, quindi le opzioni vegetariane erano un pochino scarse, però comunque in ogni caso, le opzioni vegetariane c'erano. L'unica cosa che avrei da dire, è che le opzioni vegane, forse non erano la cosa più sorprendente ever, mancavano un pochino, io vabbè, sono vegetariana, quindi ok, però diciamo che per un vegano, dove siamo stati tipo in mezzo a nulla, avevamo nulla, 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 vi giuro, le primissime foto che avete visto, se mi seguiti su Instagram, eravamo veramente in mezzo a nulla, avevamo un ristorante. Ecco, il ristorante già scarseggiava di opzioni vegetariane, figuratevi vegane, però comunque sono riuscita a mangiare senza problemi, ho trovato sempre le cose, oltre a tutto lì era estate, quindi era anche stagione di frutta, verdura, tutte le robe così, quindi non ho avuto problemi comunque a mangiare. Sicuramente i primi giorni ho fatto fatica, perché avevamo solo un posto dove andare a mangiare, e niente, ogni tanto tipo magari dicevamo, dai per pranzo ci prendiamo un panino del baretto, però tutti i panini erano tipo, o con la carne, o con il pesce, o con tipo 50 tipi di formaggio, che io, ok che posso mangiare formaggio, ma sono un po' intollerante, quindi non posso mangiare una cosa fatta solo di formaggio, tipo se mi dai una pizza ai 4 formaggi, vomito, quindi diciamo che all'inizio, i primi 3-4 giorni in cui siamo stati a Queenstown, è stato un po' così, poi però a un certo punto abbiamo trovato un food truck, un food truck, ok, food truck, che era tutto vegetale, erano vegano, io ero tipo, io ti amo, ti adoro, tieni i miei soldi, quindi è stato molto bello questa cosa, perché era un food truck, non era neanche un ristorante, era un food truck, vabbè, quindi da questo punto di vista diciamo che sono stata un po' all'inizio, siccome era stata la prima destinazione, ho detto oddio, non riuscirò a mangiare niente, perché comunque la Nuova Zelanda è famosa per la carne d'agnello, quindi sì, ecco sì, quindi quando tu vai ai ristoranti, trovi sempre sul menu agnello, agnello ovunque, e io ero tipo, please don't, però comunque in ogni caso, in ogni caso, sono riuscita a mangiare, non sono morta, tutto bene, va bene così, quindi non è stato male, ecco, per quanto riguarda i prezzi, onestamente io faccio il paragone con il Canada, neanche con l'Italia, perché tutto ciò che riguarda l'Italia sarà sempre meno costoso rispetto a qualsiasi altro paese nel mondo, il Canada è un paese iper costoso, adesso che sono stata in Nuova Zelanda, il Canada è costoso, l'unica cosa che in Nuova Zelanda costava più del Canada era la benzina, però per fortuna abbiamo sempre avuto delle macchine che consumavano poco, abbiamo avuto un'ibrida a un certo punto, quindi giustamente è stato top, quindi diciamo che io sono abituata con i prezzi canadesi, che sono tanti, quindi tu se puoi andare a mangiare fuori devi fare un mutuo, vabbè sto scherzando, una battuta, però se vuoi mangiare bene devi fare un mutuo, mentre in Canada, in Nuova Zelanda, diciamo che i prezzi erano bene o male uguali, non c'erano le tasse qua in Canada, quando tu vedi un prezzo sul menu devi aggiungere le tasse e la mancia, quindi hai una cosa come un 30% di più sul prezzo che tu vedi, cosa che in Nuova Zelanda non c'era, la mancia non era obbligatoria, e le tasse erano incluse nel prezzo, come succede appunto anche in Italia, quindi diciamo che dal punto di vista cibo ci è andata bene, non mi lamento, abbiamo sempre mangiato bene, io ho mangiato un botto di asiatico, perché alle volte era la mia unica scelta per mangiare vegetariano, però ogni tanto comunque siamo andati anche ai ristoranti, e lui comunque ha mangiato anche carne, non è che gli ho detto, a strutto ti mangi l'agnello davanti a me come ossi, no, l'ho lasciato a fare, siccome l'agnello comunque famoso là va bene ok, va bene così, non importa, ho detto dai goditi questa cosa, quindi diciamo che la parte zero waste che posso considerare sprecone è appunto il viaggio, perché il viaggio è stato lungo, abbiamo usato comunque la macchina, quindi da questo punto di vista sicuramente posso dire che non è che il mio viaggio sia stato un zero waste totale, però comunque per quanto riguarda le altre cose è stata una vittoria, quindi sì, quindi se volete altre cose riguarda la Nuova Zelanda, se mi interessano altri aspetti e non il zero waste, però mi andavo a diparciare, quindi niente, chiudo il video qua perché è venuto fuori un video troppo lungo, noi ci vediamo la prossima volta, se vi interessano altri aspetti di questo viaggio, tipo l'organizzazione, dove sono stata, cosa ho fatto, dove sono tutte queste robe qua, posso fare un video assolutamente a parte, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao! Ciao!